Ciao a tutti, sono The Tenno e si gioco con Zolato Live Memory Defrag, adesso noi andiamo a fare una nuova batch per l'armatura, quella tipo 20 se non ricordo più che si chiama vi faccio vedere anche, credo ancora, non so, aspetto a fare video che era anche solo il settimo nella classifica, ho fatto la squadra del tipo terra con 29 secondi, ho fatto, con 77 milioni e 900 ho visto che l'inizio più 2-3 giorni ero quarto, adesso piano piano sto scendendo ma adesso, perché manco un po' di cristalli, così facciamo la batch con la muova dopo faccio l'ultimo scout su questa qua, quella nuova bassa che è, non è che si, carina ma non è che dico aspettare nei prossimi, prima lei con 19 secondi, io riesco a capire come cazzo fanno si qua a fare 19 secondi, dopo ne squadra diversa, dopo quando fanno lo switch perdono, non c'erano i 10%, almeno dico questa qua, dai, livello 95, 100 e 100 tipo di acqua ma non 2 tipo scurità, se riesco a provo anch'io, adesso provo anch'io, questo qua ho usato messo tipo acqua, è tipo acqua, è tipo vento, io in questi giorni sono riuscito a fare livello 100 a lei in full ability, se ce l'ho fatta, dove, qua, livello 100 con 6903, ma bellissima immagino perché dopo, perché l'ho data lei, perché il prossimo batch, penso che la metteranno il batch tipo di vento, per forza, perché hanno fatto tutte, a parte vento, così arriverà l'evento, il tipo vento, tra qua così, un pisco, aumentare lei, che almeno si pompa dopo, in quel settimana sono usciti, nei scout, quel tipo gratis, che riuscivi a uscire a trovare, vabbè, riuscire a trovare, il scout, quelli gratis, in quel settimana, perché è l'inizio dell'anno, così, scout gratis, non ho fatto i video, tanto quelli scout, non è che si ritrova tanto, già, se hai bot di culo, trovi il 5 stelle, ma proprio strada trovi 6 stelle, oggi, ho fatto, sono riuscito a trovare Kirito, lui, tipo 6 stelle, ho mandato anche, in, cin, cos'è, in, la prima, ho fatto il primo, nel livello 85 adesso, ho dato la cramatura, così, per fare un evento, con il 6800, è fortissimo, questo qua, dopo ho trovato dentro insieme lui, lei, una bomba, dov'è, Yuki, questo qua, di acqua, che pompa, fa 6 stelle, ho dato a lui, ho dato, le ho appena, 4, no, 2, adesso noi facciamo un nuovo evento, che arrivi a 30, 30 mila, ti danno una rainbow, così, le tengo per, se riesco a trovare, un bot di culo, oggi, uno dei personaggi, lo do loro, se no, le tengo per il prossimo, i prossimi personaggi, sono settimo, figlio, pensavo fosse più lontano, adesso, c'è questo qua, intermedio, sì, sono solo, che tipo è, questo, appunto, mi sembra quasi normale, dato iniziano con, normale, che è questo Kirito, bambino, è livello 85, oddio, non si, oddio, da un'armatura, però il totto ho messo da Kirito, a doppia spada, che tipo è, vediamo, è tipo normale, sembra, sì, è tipo normale, allora lo ammazziamo velocemente, o c'è chi, questo qua, Kirito, a livello 85, ha quasi, con l'armatura, da 400 in attacco, a 6.600, lui Kirito, doppia spada, vabbè, hai detto, doppia spada, non ha una grandissima potenza, questa, con la doppia spada, a 6.800, 200 in più, ok, sono tanto qua, facciamo veloci, facciamo tutto l'evento insieme, dopo facciamo anche lo scout, l'ultimo, dopo che io ho, io ho pensato, che strano, non hanno messo le, le batch di scout singole, dei personaggi, da, da quando erano più messe, da Natale, con un sito poi, Christmas, erano più messe quelle singole, di guarda, l'ho trovato anche i becci, intucchito, ha messo, lo muovo, io dico, che cazzo fanno, e dai, più o meno la squadra è tipo normale, così perfetta, più o meno quasi, perché, ho uso, diciamo, cos'è, armature, ho poche, ho uso, tolgo bambino, per mettere, lì fa, quella, quel fucile, che è a 76.000, buon, buon, buon attacco, adesso, nel futuro, riuscire a muovo a bascia, ma mai, livello c, a 6, a 5 stelle, ecco, automatico, fa lui, lo tengo lui, prima che fa automatico, almeno, non devo fare la fatica io, dopo non riesco a pararla, la palma, non riesco a pararla, cose varie, affanculo, meno c'ho lui, più o meno, è utile, ma è, nel futuro, perché lui è più tipo un tank, come Eclipse, quello con lo scudo, Kito anche lui, con lo scudo, che si è trasformata, fatto l'awakened, in 6 stelle, si, vabbè, confronto loro, loro sono più potenti, di Kito con lo scudo che ho fatto a lui che altro è l'autoparata sempre qualcosa almeno è più facile a pararla poi a qualche volta non riesci a pararla perchè il mostro è più lento inizio più lento poi fare un attacco veloce è più facile 0109 sono contento con l'autoparata di solito quei bats ti da male un cazzo di solito è già tanta fortuna che riusci a trovare 5 stelle ma riusci a trovare tutti i doppioni immuobi certo mi ha dato più che tipo di acqua non male a me è bruttissimo vai quindi è tipo normale c'è un buon squadro Yuki quella DGO diminuisce la difesa qui sotto c'è aumenta la combo che aumenta diminuisce la difesa e usa pistola per me la vaffanculo me la l'ho schiacciato troppo tardi per fare la difesa lo amazziamo velocemente e più ho di più difficoltà dal master più o meno dal master in su nel senso più bastardi vai questo qua Kirito è un peccato che fa un colpo di spade pensavo fosse era beh perchè Kirito si riesce se lo lascio per l'ultimo lo scambio faccio tutte le copie nel futuro adesso guardo che è 88 massimo nel futuro devo aumentare per fare il full ability faccio tutti attacco e l'ultimo in MP perchè è 88 livello 90 appena 2 devo fare così per forza se tu metti il livello se tu metti il livello non metti il MP allora non ho fatto forza bravo bella bella squadra non c'è anche veloce c'è l'ultimo scout su questa tanto male dopo le tengo che mi interessa fare la squadra di vento dopo non so faranno davvero tipo squadra di vento si o no è l'ultimo c'è il master più 1 che più 2 che strano forse quali nei prossimi giorni quel tipo extra questo qua livello 100 questo può essere una bomba per il master riesco a fare che da su più o meno sia abbastanza chiaramente riesco a fare tutti i colpi allora vado avanti come una manetta vai vai ok bravo bravissimo vai Kirito togliamo tanto guardi 1 1 va 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 and d dietro paro ok perfetto è molto utile e chitto bambino non è... può essere molto... è lungo, ah no vabbè e qua... posso... ho pagato io, mi taglie l'88, ho sbagliato per dovermi iniziare con l'altro mi finivo con Kito potete fare con la squadra adesso vediamo se... riesco a prendere la S facciamo una nuota con la squadra è sbagliato riuscivo a scappare ma ne vedete non ci metto troppo 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 c'è un minuto a te ah no, posso anche... non posso superare un minuto e trenta dai, spaga c***a di chi non fanno fanno c***o un posa Kito che per 2mp mi sarebbe utile come adesso vaffanculo dai a non morire bravo posso usarlo se non mi crepa ecco è il momento 30 eh posso che è kilito un po' mi sono po' i cojoni due metti devo rifarlo facciamogli in squadra tanto non potevo usare la loro chitto per i due metti misi un po' i cojoni per questo è proprio un peccato per quello sarei più o meno quando hai ammazzato facciamogli in squadra possiamo trovare qualcuno più sicilissimo adesso fanno tutti a manetta questo dopo farò da solo tanto non c'è 1-30 mettono davanti la mitigator ormai dopo faccio velocemente a recuperare i punti ok vabbè sì va bene non è un mostro forte forte basta inserciamogli in 3 ammazzano velocemente magica bullet beh dai è stato fortunato troppo chitto e' chitto e' ogeo sopra e' OP che fa 16 di combo è tantissimo che troppo il personaggio della bacio più forte in attacco sulla fa 16 o' fu anche più o meno ho fatto bene anche pullare su quella di terra che è chissima a meno andiamo a dire adesso uso anche lo mitigator su questa che fanno quella mossa bastarda difesa con Mico Pissio so perchè io schiaccio la difesa lui attacca intelligente io riesco a capire che non fare la difesa ma mi ti chiedi torti non fa perdere per niente dai non dico queste persone qua ma para un colpo figalo posso parare sempre io la mitigator non para ma vaffanculo va dai para o meno mangi su cristo para dopo 28 secondi lo para la mitigator lo para dopo che cazzo se ne frega oddio mio adesso mi crepa male forse muorla mi pietro non pari ma chi tu va fino a pieno e se qualcuno alcune persone non parano ma attaccano la manetta ma non non fa un cazzo direi che posso parare per essere per fare toriptato il danno alcune volte devo fare tipo appena arrivare a 30.000 se riesco vabbè questo qua riesco a fare anche da solo metterla la mitigator faccio da solo meglio se non perdo tempo se uno para non para cagate vai ma vaffanculo allora mi pietro non riesco a capire perché attaccano la manetta hanno la mitigator così anche se cazzo tre frega prende i danni basta vabbè allora fai una volta e basta abbastanza che riesci ad essere immune e basta no attaccano si sa anche parare 215 diciamo l'ultimo scout e basta la baccia mandare ma vaffanculo la spada più skill damage più 10% suona buona anche le abilità anche delle spade più 10% di skill di tipo terra no ok ne got no le 7 figlia che guarda c'è uguale di meno che tenere strea le stelle si non vaffanculo che è danno questo qua pelleca agone vaffanculo è una suona devo guardare quante rate ha in questa baccia è impossibile la prima volta con il fio di sotto quanti di quando arrivano i fiori è una 6 step garantita la prima volta quando ho fatto l'altro video con lo vecchio non so perché non me lo danno quindi sono due volte ha fatto il sorriso più no uno si il sorriso più grande così deve essere garantito buh ormai questo bacio mi andrà a fare un buo tanto ormai più avanti uscirà qualche stack up tipo scurità il rate dov'è 3% io sono al terzo step ho quasi il 5% di trovare e minchia step 6 no step 5 100% però madonna lo trovo eh sì ma non voglio shoppare cagate va non ce lo voglio già so shoppato troppo e niente ci vuole 5% e anche gli altri vuoi vedere 3% 3% 4% uguale perché la prima volta ero 2 con le scout con i fiori mi dà 2 puttanate neanche 2 le gotte niente adesso le tengo per adesso guardo ma non ci arrivano mai la 250 no quanto qua mi dà qualcosa no qua mi dà mi dovrebbe saltare appena l'armatura e basta la rainbow arriva a 30.000 ok riuscirò ad un altro evento per un altro cos'è un altro ranking tipo classificato due batch più o meno due uscirò a tre due o una due ancora perché una ranking classificato uscirò ancora che sotto ci sono sempre due questa è un'altra e forse un'altra può essere c'è questa che è uscito non lo so può essere una ranking sicuro di sotto solo due o deve uscire un'altra ma questa è 20 giorni e così apposto deve uscire appena la ranking ti danno più o meno quasi 100 più o meno non pop quasi 100 non ci arrivo non ce lo voglio shoppare niente cosa bacio ma andiamo affanculo proprio e niente una sfiga totale se vi è piaciuto il video lasciate un like o iscriviti al prossimo episodio ciao ciao